Ciao a tutti, bentornati sul canale di Trattoria Sportiva qui come sempre Mario e oggi siamo qui a commentare Cosenza-Palermo finale 1-1 gara valevole per la 33esima giornata del campionato di serie BKT Cosenza che con questo pareggio guardiamo soltanto il mero dato statistico aggancia la Ternana, oggi vincitrice a Cremona per 2-1 e si tira momentaneamente fuori da, anzi, momentaneamente allunga dalla zona play-out, diciamo perché Cosenza ora si ritrova più 1 sulla coppia Spezia-Bari più 3 sull'Asco di terz'ultima più 5 sulla Ferrari Salò più 10, diciamo, sull'ultimo posto che è il Lecco guardando verso sopra il Modena, diciamo, che è stato un minimo rimesso dentro il mucchione perché è a quota 39 ma noi ora dovremmo andare a Reggio Emilia a giocare contro la Reggiana venerdì sera e non sarà una passeggiata ora, parliamo di oggi io onestamente sono stato ho visto tipo 4-5 partiti in una morale della favola Cosenza ha giocato soltanto 2 minuti ma ormai con la cura Viali abbiamo capito che non dobbiamo più apparire belli ma dobbiamo essere giudici e crearci sporchi come dice il mister e crearci le occasioni con l'elmetto primo tempo che si può riassumere guardando la formazione con un 5-3-2 con Zuccon che Anna Gertesi è trovata a fare il terzino e lì due domande mi sono sorti ho detto io ma sarà che se volevi impostarla così oggi serviva più Boca che con Caserta ma anche prima diciamo in carriera più o meno aveva fatto quel mezzo ruolo lì però Federico è già stato il migliore in campo per distacco secondo me ci ha messo la grinta tecnica a go go quindi il ragazzo oggi piena sufficienza penso che a parte lui Antonucci Tutino per il gol sono in pochi diciamo quelli che oggi do una piena sufficienza anche perché hai attuato il classico non calcio bisoliano perché parliamoci chiaro il Cosenza non gioca cioè e fa sembrare brutte anche le altre squadre perché Mignani oggi diciamo l'aveva preparata secondo me per cercare di bucare il bunker ecco secondo me non si aspettava una difesa 3 però trovatosi di fronte una difesa 3 che poi magicamente diventava 5 in fase di pure di impostazione a una certa ha deciso di far saltare il bunker rosso-blu con Di Francesco che letteralmente è stato la zecca o il jolly impazzito diciamolo così nel fraseggio delle aquile rosa nero primo tempo che si conclude con o meglio che si sviluppa letteralmente su azioni nostre erano più che altre azioni da fermo galocche io lì quando ho visto quella mattonella lì ho detto e oggi è il giorno e oggi non è stato il giorno perché ha preso un palo che magicamente ha attraversato tutta la linea e non è riuscito nemmeno diciamo a prendere la parte interna del palo per andare in porta però oggi ecco oggi o meglio quando ha queste palle che con noi letteralmente non le ha mai avute si esalta queste proprio in quella zolla lì non le ha mai avute questa è stata la prima ha preso il palo quando c'è sfiga c'è sfiga quando non gira non gira poi altre occasioni nel primo tempo vado a memoria nostre ora vado a controllare vediamo se Sofascore mi viene in aiuto in questo caso 5 tiri nostri provo a focalizzarmi a parte il tiro di galò non me ne vengono in mente magari c'ho in questo momento un misunderstanding scrivetemelo nei commenti sulla ribattuta letteralmente il Palermo con Lund riesce a trovare scoperta diciamo il reparto difensivo rosso-blu anche perché letteralmente era su una punizione conquistata dai giocatori del Palermo dormita colossale in questo caso di Zuccon perché Zuccon lì doveva aiutare Venturi però Venturi si è fatto fregare in velocità da Lund non è riuscito a stenderlo Lund l'ha messa dall'altra parte e il gol dell'1-0 momentaneo è stato segnato da Buttaro al 44 quindi una doccia gelatissima in una maniera impressionante che considerando forse come è andata la stagione ci avrebbe potuto ammazzare perché anche io onestamente a fine primo tempo sono stato letteralmente 10 dei 15 minuti in silenzio ascoltavo i pareri ovviamente di chi è più grande di me in questo caso mi trovavo abbastanza concorde sul fatto di che Viale diciamo non avesse non dico letteralmente cioè questo stravolgere la formazione ecco non era stato non era stato compreso parlando anche dal punto di vista della condizione atletica con la squadra un po' giù però alla fine della Fiale il secondo tempo è stato si è visto diciamo per Asprazzi una squadra molto diversa anche perché Antonucci è riuscito a sfruttare l'unica palla giocabile di oggi l'unica palla giocabile di oggi e Tutino si è guadagnato un rigore ma anche grazie non so chi abbia commesso il fallo vado a vedere magari se negli ammoniti più o meno riesco a risalire e no però credo fosse Nedel Cearo vedo un attimo dovrebbe essere Nedel Cearo perché era lui che lo marcava letteralmente a uomo e si è un pochettino fatto uccellare perché Jenny era circondato da lui e da altri giocatori cioè non si poteva letteralmente muovere l'unica cosa che poteva fare era lo scarico però magari è stato molto più scarico cioè magari Nedel Cearo la legge letteralmente non dico sfiorato ma quasi è lui ovviamente che in queste cose è un un gran città se si deve prendere un rigore se lo prende è riuscito a mettere il colpo davanti cioè praticamente l'attaccante è difensore dietro fallo cioè detta così forse facendolo vedere così non è il massimo però ho capito la prossima volta credo che utilizzerò Goku così però anche lì potrebbe essere peggio però ci lavoreremo contrasto di gioco l'attaccante cade in aria e il rigore poi io il rigore non l'ho voluto vedere quindi mi è sembrato di vedere che il portiere del del Palermo l'abbia sfiorata però quando l'ho vista in porto ho iniziato a urlare e mi sono goduto il momento cosenza che lì per due minuti lezionalmente è stata in partita due tre quattro cinque minuti ora fate voi dove poteva magari con qualche intelligenza tattica in più anche dal punto di Canotto avrebbe potuto sbloccarla ecco avrebbe potuto ribaltarla ecco mi è venuta in mente l'occasione del primo tempo di Canotto su un uno schema di calcio d'angolo anzi prima punizione non è calcio d'angolo Calotto la butta dentro palla spizzata fuori Calotto diciamo sulla lunetta tiro ma il portiere del Palermo la devia in angolo e anche nel secondo tempo diciamo che quel contropiede lì grida vendetta perché probabilmente recuperare quel pallone se Canotto avessero deciso di metterla di darla subito in profondità a Crespi magari staremmo parlando di altro però con i secchi ma non ci salvi una stagione ecco e noi che siamo stati abbastanza cinici negli scorsi anni dovremmo saperlo Crespi è entrato bene onestamente cioè non non ha demitato ecco già si è visto dopo il gol dell'1-1 dopo il rigore di Tudino una squadra diversa cioè è quasi ora non vorrei essere magari troppo banale però a questa squadra ogni volta sembra che se Jenny fa quello che deve fare cioè dare la scintilla alla squadra per inerzia per frenesia riesce diciamo a catapultarsi ad entrare in partita se Jenny Tudino sempre non riesce a fare cioè se non si fa trovare non so come spiegarlo però è come se lui nel momento in cui si sveglia lui si sveglia tutti si svegliano tutti gli altri dieci è come se veramente allora è giusto ergerlo a capobranco anche della squadra stessa perché è un po' magari qualcuno mi probabilmente mi dirà resiglia però è il nostro è il gigi di questa generazione perché vedere una squadra che dopo il suo rigore che è il gol numero 14 in campionato cosa che non accadeva riviere tipo si era fermata a 12 vado a memoria quindi diciamo che forse non accadeva proprio dei tempi di Gigi di Tatti di Lucarelli cioè di quella gente lì ti ribocchi mi sa che si era fermata a meno di quella gente lì diciamo in una stagione in serie B ovviamente mi sembra mi sembra diciamo scontato però in quei 4-5 minuti Crespi per chiudere questa mega parentesi su Tutino Crespi diciamo io l'ho visto pimpante poi Tutino è uscito non si sa se è per Crampi perché non ne aveva più perché era stremato o perché si è fatto male perché ho visto che staccava il polpaccio dietro quindi spero che siano solo Crampi e me lo auguro con tutto il cuore Jenny per favore che Reggio Emilia Servi per il finale per il finale di stagione Servi poi c'è stata una mega una mega giocata una giocata di Crespi e io lì ho rivisto Cosenza le gira 2-1 perché ho visto un movimento di Crespi sull'auto di sinistra che si è girato tipo spalle su Ceccarone mi sa no era di Akite che lo scusa era di Akite si è girato l'ha superato palla messa in mezzo forte e ho detto io e appena entrato forte forte diciamo non l'ha presa o l'ha ciccata mandato il pallone in calcio d'angolo lì lì per un nanosecondo ho rivisto un'immagine dell'anno scorso non so se addirittura di sto periodo o forse di fine marzo però era 30-31 marzo quindi più o meno di questo periodo qua stiamo parlando e l'ho rivista ho detto io la prima esclamazione che ho fatto è stato ho rivisto Delic per due nanosecondi ci prendiamo un punto che considerando la giornata e i risultati è grasso che cola come ho detto all'inizio perché a parte la terrana che secondo me si è tirata fuori anche per la motivazione che hanno molti molti giovani di squadra e guidati da un leader tecnico come Gaston Pereiro e da un allenatore che ne sa ne sa per quanto rigoncerne le salvezze saremo quelle lì a lottare cioè tu ora hai Reggiana che viene dalla sconfitta incomprensibile di Lecco non ho capito come sia stato possibile ciò poi hai il bar in casa hai un'altra trasferta che non mi ricordo dove e poi hai lo spezio io sono dell'idea che Cosenza deve tirare fuori non si sa come 7 punti tra Reggio Emilia Bari in casa e Spezia non so come non so le partite sono rimaste sono rimaste 5 partite tu devi tirare fuori 7 metto 8 punti se ad Ascoli vai e vai a fare un pari però devi vincere i due scontri diretti con le squadre che hai letteralmente attaccate perché lo spezio alla prossima va un attimo con il controllo va gioca il derby con la Samp e la Samp ha fame di punti per andare in ai playoff quindi non sarà una passeggiata di salute poi dopo al Brescia il Bari alla prossima se non erro va a Pisa dovrebbe andare a Pisa anzi giochi in casa col Pisa quindi magari quella lì il Bari potrebbe anche vincerla e arrivare a Cosenza con il coltello tra i denti chiudendosi dietro quindi quella lì occhio però ripeto cioè bisogna secondo me lavorare un po' sulla ho capito la mentalità del mister quindi del mettersi del match e entrare in guerra ok però questa squadra secondo me può vincere determinate partite anche col gioco cioè ho capito che ormai bisogna sporcare le partite bisogna puntare su questo anche fare i nervositi degli avversari se serve poi perché sei in una posizione di classifica dove non ti puoi permettere passi falsi è ok ci sta l'ho capito però secondo me è un minimo anche facendo due passaggi e non subito sperando lanciando la lunga facendoci segno da croce pregando San Gennaro secondo me si potrebbe anche provare a giocare perché questa squadra lo va nelle corde poi oggi è giocato Canotto nel ruolo che avrebbe dovuto fare Marras Canotto per me la grande delusione di questa squadra cioè assieme a Forte perché Forte oggi un attaccante vero quella palla lì di Crespi se la mangia cioè quella palla lì messa da Crespi si ci butta con tutto quello che ha parte addirittura un nanosecondo prima che il pallone parta perché ci deve arrivare per forza perché quella un attaccante vero la butta la deve buttare dentro purtroppo ripeto coi se e coi ma non si va da nessuna parte l'anno scorso probabilmente partite del genere infatti l'anno scorso l'hai vinta 3 a 2 in una maniera che non sai manco tu come ero cambolesca però la avevi portata a casa sempre con lo stesso allenatore ma perché avevi giocatori ripeto che probabilmente erano giocatori che avevano l'elmetto veramente che si volevano mettere in mostra non allungo più di tanto il discorso ci sentiamo domani eventualmente è la terza volta che lo dico domani credo di farle le pagelle e di parlare anche un po' più approfonditamente di determinata tematica vi abbraccio vi auguro un buon fine settimana buona domenica in questo caso buona sabato sera e nulla ciao a tutti